Luigi Di Maio di Impegno Civico sta rivolgendo molta attenzione ai giovani. L'idea è che coppie e singole under 40 possono accedere a mutui per acquistare la prima casa accedendo a un prestito garantito dallo Stato a tasso zero. Lei pensa che questa misura possa incentivare finalmente i giovani ad uscire da casa, ad acquistare una casa propria? Potrebbe incentivare i giovani se avessero un lavoro, soprattutto un lavoro a contratto a tempo indeterminato. Perché io sarei più che altro, più che per un incentivo dal punto di vista della riduzione della fiscalità, magari un incentivo affinché lo Stato faccia da garante per i giovani che vogliono acquistare casa e non hanno un contratto a tempo indeterminato. Questa è un'altra domanda comunque. Una risposta potrebbe essere semplicemente sentimentale, sicuramente da un punto di vista sentimentale, ma il problema è che se lo Stato ci deve mettere tutti i soldi ogni volta, senza avere un lavoro fisso e senza dare la possibilità alla gente effettivamente di impegnarsi per il futuro, ma ditemi voi, lo Stato può dare a pioggia continuamente, può sostenere situazioni del genere? Io credo che secondo me è la politica che deve cambiare completamente proprio, cioè sostanzialmente non si possono aspettare le elezioni per fare proposte che poi sostanzialmente non possono essere mantenute. Io dico una cosa solo, che tutte queste proposte che fanno i partiti, sono tutte proposte che così le buttano lì per avere voto, si combattono fra di loro. Capisci com'è? Non è che combattano il rete di cittadinanza o qualche altra cosa. Si combattono solamente loro, ma in effetto ai cittadini viene poco. Poi quando vanno al governo non ci sono soldi. Certo che possa incentivare ad acquistare la prima casa per un giovane, anzi è importante. Come noi per esempio, noi a Cantile abbiamo lavorato, abbiamo provato la GESCAL, però noi la casa non l'abbiamo avuta. Se non ci accettavamo la casa non ci arriva nessuno.